Altro tema caldo per la città è il nuovo ospedale. Abbiamo intervistato il professor Palù, naturalmente grande esperto di sanità, se non lo è lui chi è, che può dirsi esperto di sanità in città. Sentite cosa ha detto, serve una struttura d'avanguardia, bisogna sbloccare l'impasso. L'ospedale, o meglio una struttura che sia un centro di medicina accademica con un campus di mia medicina, è voluto, lo vogliamo tutti. Padova lo merita per la sua tradizione, otto secoli di storia. Medicina è nata a Padova prima che ci fossero gli ospedali, a me non piace parlare di ospedali, vorrei parlare di centro di medicina accademica o di campus, quindi Padova ne ha bisogno. Questa è la premessa da cui si deve partire, impensabile concepire Padova senza una struttura d'avanguardia, un ospedale dove la scuola di medicina continua a mettere risultati. A dirlo un rappresentante illustre dell'università, il direttore del dipartimento di microbiologia. Il professor Paluno, nel 2004, fece anche parte di un team creato per presentare uno studio in regione sulle caratteristiche del nuovo ospedale, una struttura che anche oggi deve essere al passo con i tempi. L'ospedale oggi dura 10-20 anni perché sono cambiati gli approcci alle cure, quindi oggi le cure sono avanzate, molecolari, disegnate su singolo paziente, abbiamo meno bisogno di ricoveri, quindi solo l'altissima specialità, quindi Padova dovrebbe classificarsi per questo. Non importa dove si fa, purché si faccia. Basta un slogan politici, nuovo su vecchio, Padova Ovest, Padova Est, sono discorsi che fanno perdere tempo, una storia che si ripete purtroppo ad ogni cambio di amministrazione. Secondo Palù due sono le ipotesi, ossia un ampio spazio per creare una cittadella medico-universitaria oppure un modello urbanistico di ospedale metropolitano. Due sono i fattori, la volontà di fare, perché stiamo perdendo troppo tempo, sono passati come ha ricordato lei 8 anni e una decisione allora di farlo nuovo su nuovo era presa in base al fatto che farlo sul vecchio sito avrebbe comportato una perdita di 6-12 mesi, ma poi ci vogliono i dinè, come si dice, i soldi, i skei, quindi bisogna avere la volontà e i soldi. Io penso, ecco, e lo dico, Padova lo merita per la sua cultura, per la sua eccellenza, ma lo meritano anche gli ammalati e lo merita il vento.